Oliverio incassa l'appoggio del ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio per l'istituzione della ZES a Gioia Tauro. Il governatore, accompagnato dagli assessori alle infrastrutture e al sistema della logistica Roberto Musmano e Francesco Russo, è riuscito a strappare l'impegno formale del ministro alle infrastrutture e ai trasporti. Durante l'incontro di ieri pomeriggio a Roma, il presidente della regione ha illustrato al Del Rio tutte le proposte dell'esecutivo regionale in tema di infrastrutture, logistiche e servizi per la mobilità, un vertice che lo stesso Oliverio ha definito proficuo e costruttivo. Le proposte costituiscono il punto di riferimento di una strategia di crescita che sarà oggetto di ulteriori incontri con Rete Ferrovia Italiana, Anas, Enac e Trenitalia per approfondire i singoli aspetti che saranno compresi nell'intesa generare quadro tra governo e regione. Il governatore ha discusso con il ministro dei principali temi per lo sviluppo della regione, i collegamenti ferroviari tra la Calabria e Roma in direzione della realizzazione dell'alta velocità tra Battipaia e Reggio Calabria e dell'ammodernamento e miglioramento dei servizi ferroviari della fascia ionica al miglioramento della logistica saranno destinati gli interventi del PON Trasporti al fine di rafforzare i servizi tra Gioia Tauro, area centrale del sistema logistico regionale e la dirittrice ionica. Le misure sul sistema infrastrutturale stradale saranno destinate prevalentemente a interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di ammodernamento della 106 ionica con la messa in sicurezza dei tratti che presenteranno maggiori criticità di messa in sicurezza della statale 18 e di completamento delle trasversale a partire dalla trasversale delle serre. Oliverio ha poi riferito al Del Rio circa il provvedimento adottato nei giorni scorsi dall'Aggiunta per l'attivazione della ZES a Gioia Tauro, punto sul quale il ministro ha garantito il suo impegno. Altro aspetto rilevante riguarda la proposta di istituire un'autorità portuale unica per tutte le portualità calabrese e il collegamento ferroviario con i porti di Corigliano e Crotone, nonché la realizzazione del gateway a Gioia Tauro. Affrontato anche il tema del sistema aureo-portuale, a tal proposito il presidente della regione ha espresso soddisfazione per il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri in merito alla classificazione degli aeroporti di Crotone, la Mezza e il Reggio. In questo ambito è stata sottolineata la necessità di realizzare investimenti per la riqualificazione infrastrutturale dei tre aeroporti nel quadro di un'azione più generale volta al miglioramento e alla capacità gestionale. Relativamente ai temi del sistema idrico e dell'assetto idrogeologico, si è deciso di convocare un apposito incontro. Oliverio, a conclusione della riunione, si è sbilanciato. È stato un primo incontro porfico e positivo, una buona base per pervenire a un'intesa istituzionale tra governo e regione per affrontare concretamente l'ammodernamento infrastrutturale della Calabria e il suo collegamento con il Paese dell'Europa. Devo ringraziare Del Rio per l'apertura e la disponibilità dimostrata sulle proposte da noi avanzate, ma anche per l'impostazione generale assunta dal Ministero delle Infrastrutture relativamente al disegno dell'ammodernamento infrastrutturale del Mezzogiorno e della nostra Regione.